Domani 5 novembre ci vediamo tutti a Milano all'arco della pace in difesa del popolo dell'Ucraina. Certamente il nostro obiettivo è lavorare anche attraverso un'intensa azione diplomatica per l'obiettivo della pace, ma nella chiarezza delle posizioni, perché noi abbiamo il dovere di difendere il popolo dell'Ucraina e l'Occidente è quello che ha cercato di fare anche attraverso l'invio di armi in questi mesi. E allora aderiamo domani ad una manifestazione che ha le parole d'ordine giuste, sono le parole della diplomazia, della pace, nella consapevolezza che noi dobbiamo distinguere le posizioni in campo tra chi è stato aggredito il popolo ucraino e tra chi invece ha fatto un'aggressione come Putin. E allora con questa piattaforma, con queste idee, ma soprattutto con la voglia di contribuire al cambiamento di quella...